Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio dei Summer Potential Transfer e come novità, che tutti mi stavano chiedendo, con il nuovo design, la nuova grafica creata da SPAC il grafico trovate in descrizione il link sulla pagina Facebook, potete chiedergli tutto, lavori grafici eccetera eccetera lui è molto disponibile e soprattutto ci saranno le prediction delle carte che trattiamo oggi, comunque dei transfer di oggi tre giocatori come sempre, due giocatori in entrata per la Serie A e un giocatore estero, così per variare un po' quindi direi di partire subito, lasciamo un bel like, 300-400 mi piace per queste nuove carte e ci sarà un nuovo episodio e come sempre scrivetemi nei commenti qualche nuovo giocatore comunque andiamo col primo giocatore, cioè di Perisic, Perisic del Vosburg che ultimamente si sta parlando tantissimo di un possibile trasferimento nell'Inter di Mancini però ci sono da dire delle cose, allora c'è un'offerta dell'Inter di circa 2 milioni di prestito più i 16 milioni per l'obbligo di riscatto, quindi comunque Perisic verrà riscattato obbligatoriamente oppure nel caso nell'Inter ci sarà una vendita in questi giorni, un'offerta per l'intero cartellino di circa 16-18 milioni il giocatore che dovrebbe andare via dall'Inter è proprio Shakiri che non ha convinto Mancini in questi sei mesi in cui è stato all'Inter e quindi verrà probabilmente venduto, si parlava giorni fa dello Stock City ma non dovrebbe essere una destinazione gradita dal giocatore negli ultimi giorni, nell'ultime ore si è inserito anche lo Schalke 04 e vedremo comunque Shakiri dovrebbe essere venduto per una cifra intorno ai 17 milioni o quantomeno questo è quello che chiede l'Inter e poi penso che dopo l'eventuale vendita di Shakiri si potrà pensare a Perisic questa è la carta che io prevedo per Perisic, un aumento di 1 di overall e delle statistiche un po' sono aumentate personalmente è una carta che mi piace, non so se verrà messa rara l'anno prossimo perché la grafica ce l'abbiamo solo così, però vabbè si vedrà andiamo con un altro giocatore di questo episodio, un altro giocatore della Serie A cioè Romagnoli, come potete vedere che anche se si sta parlando tantissimo nell'ultima ore di un suo interesse del Milan in realtà si sta parlando di un suo interesse da un bel po' di tempo Romagnoli, questa sarebbe la sua carta nel caso si trasferisse al Milan io l'ho voluto lasciare argento, raro, con delle bellissime statistiche secondo me ha disputato un'ottima stagione quest'anno e quindi potrebbero essere sostanzialmente simili le statistiche però bisogna vedere se Romagnoli si trasferirà al Milan perché la Roma chiede una cifra molto alta, cioè di 30 milioni il Milan finora è arrivato a offrire se non sbaglio 18 milioni più 2 di bonus quindi 20, rifiutata ovviamente questa offerta dalla Roma nell'ultima ore ne ha offerti altri 2 di milioni in più quindi sarebbero 20 milioni più 2 di bonus bisognerà vedere se la Roma accetterà o rifiuterà anche questa offerta da parte del Milan è un giocatore che appunto ripeto costa veramente tanto comunque molto giovano, 95 se non sbaglio quindi un prospetto per il futuro molto importante secondo me però il Milan dovrebbe anche puntare magari su un nome un po' più diciamo un po' più grosso, un po' più importante per sistemare la difesa che è il reparto sicuramente più in difficoltà che è stato più in difficoltà nella scorsa stagione ma anche in quelle precedenti comunque andiamo sul terzo giocatore di oggi un portiere tra l'altro, non li trattiamo spesso i portieri cioè David De Gea che potrebbe trasferirsi al Real Madrid è stato detto da Florentino Perez, almeno da quanto ho letto in queste ultime ore quindi De Gea potrebbe trasferirsi al Real Madrid e quindi tornare a giocare in Spagna ricordiamo che Casillas dovrebbe essere stato venduto o comunque sarà venduto presto al Porto e quindi secondo me il Real Madrid con l'acquisto di De Gea riuscirà a migliorare quel reparto che finora in questi ultimi anni era stato un po' tremolante con De Gea, con queste statistiche perché secondo me quest'anno ha fatto una stagione spettacolare De Gea merita delle statistiche altissime come quelle che ci sono in questa carta e quindi secondo me potrà diventare uno dei migliori portieri in Europa sicuramente comunque raga il video finisce qui come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 o 400 mi piace, ci stanno anche perché ci sono le nuove carte in questo episodio fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto cosa ne pensate di questi trasferimenti e come sempre consigliatemi altri giocatori da trattare negli episodi successivi iscrivetevi al canale, pagina facebook, twitter, instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga